Seduta del 29 gennaio In apertura di seduta è stato commemorato Vittorio Beltrami, già consigliere regionale delle prime legislature e presidente della Giunta dal 1985 al 1990. L'Assemblea ha poi approvato la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 marzo e respinto la richiesta di autosospensione dalle cariche istituzionali dei candidati alle politiche proposta dall'opposizione. In una pausa dei lavori sono state ricevute delegazioni di cittadini e amministratori contrari alla chiusura dell'emodinamica dell'ospedale San Luigi di Orbassano e alla riduzione di servizi sociosanitari nelle valli Chisone e Germanasca. Presidenza, Commissione di Garanzia La Commissione di Garanzia ha rinnovato l'incarico di presidente all'ex consigliere regionale Claudio Simonelli. Gli altri componenti dell'organo consultivo indipendente della regione sono il magistrato a riposo Corrado Canfora, gli avvocati Renzo Cappelletto e Gian Mario Giolito, i docenti universitari Francesco D'Assano e Jörg Lüter e l'ex consigliere regionale Paolo Cattaneo. Menzione del Corecom Il Comitato regionale per le comunicazioni ha ricevuto un riconoscimento di merito anche da parte della magistratura. È accaduto sabato 26 gennaio a Torino nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ad opera di Mario Barbuto, presidente della Corte d'Appello di Torino, distretto a Piemonte e Valle d'Aosta, che ha ricordato il grande valore sociale dell'attività conciliativa del Corecom. Tre generazioni, tre libri Per il filo diretto dedicato al giorno della memoria è stato chiesto a tre relatori di età diverse di raccontare un testo legato alla Shoah. Se questo è un uomo, di Primo Levi, è stato illustrato da Guido Neppi Modona, docente dell'Università di Torino e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. Milano Mauthausen e ritorno di Bruno Vasari è stata la scelta di Barbara Berruti e 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti, quella di Giacomo Verri, insegnante e scrittore. Frutte e ortaggi che parlano piemontese Sono stati presentati a Palazzo Lascaris i risultati della campagna per promuovere il consumo di sei varietà di frutta e ortaggi coltivati in Piemonte. Lo zocchino chiaro, coussot, pomodoro a cuore di bue, tumatica, cavolfiore, caulifiur, pesca nettarina, persi, melone, mlung, pera madernassa. Lanciata tra giugno e novembre 2012 nei 130 negozi Nordi Conad di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, la campagna ha avuto successo con un aumento medio del 40% del consumo di questi prodotti. Premio San Giovanni 2012 Cinque personalità che si sono particolarmente distinte nella cultura, nella scienza, nell'arte e nelle libere professioni hanno ricevuto il 24 gennaio a Palazzo Lascaris il Premio San Giovanni 2013. Istituito dall'Associazione Piemontesa per rendere omaggio a coloro che hanno contribuito ad accrescere il prestigio di Torino e del Piemonte, il premio è stato consegnato alla presenza di Giandui, Andrea Flamini e Giacometta, Manuela De Faveri e di alcuni figuranti in costume.